Nemmeno le avverse condizioni meteorologiche hanno fatto desistere i cittadini gelesi a partecipare all'apertura della Porta Santa presso la piccola Casa della Misericordia. Dopo la celebrazione della Santa Messa in cattedrale, la processione si è snodata regolarmente fino al Palazzo Regina Margherita. Un tappeto di ombrelli si è diretto nella sede nei pressi di Piazza Sant'Agostino, in cui il Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana, ha aperto la Porta Santa. In questo giubileo indetto da Papa Francesco e dedicato alla Divina Misericordia, dunque anche Gela avrà la sua Porta Santa, che rimarrà aperta a quanti lo vorranno fino al 6 novembre prossimo. Grande la commozione del Vescovo Monsignor Rosario Gisana. La Porta della Misericordia, che in un certo senso è una esplicazione della Porta Santa, è che con oggi abbiamo voluto inaugurare una serie di aperture che faremo in tutta la Diocesi, nei luoghi dove non solo si pratica la misericordia, ma anche diventa ispiratrice per assumere uno stile di vita ben preciso. Tutte le volte in cui pensiamo alla misericordia del Signore pensiamo a due aspetti della sua presenza nella nostra condizione umana. La prima è il perdono che noi accogliamo dal Signore in maniera gratuita, senza condizioni, senza bisogno di corrispondenze. E dall'altra è l'atto di carità che noi compiamo nei confronti delle persone bisognose. Dietro tutto questo c'è il desiderio di far capire alla gente quanto Dio sia veramente vicino a noi, in modo particolare a quelle persone che vivono una situazione di emarginazione. Evidentemente è chiaro che la nostra città, come anche le città della nostra Diocesi, sono in qualche modo un po' segnate da tante condizioni di bisogno. È un simbolo, come giustamente è stato detto, un simbolo che desidera richiamare quello che Papa Francesco sta mettendo in evidenza e che è una sottolineatura ulteriore di quello che Gesù disse in maniera molto aperta e, direi, decisiva nei confronti degli scribe e dei farisei. E cioè che la nostra attenzione deve essere rivolta all'uomo e, in modo particolare, all'uomo bisognoso. È un messaggio di speranza che il Santo Padre Francesco ci ha voluto donare attraverso il Giubileo straordinario. straordinario non soltanto perché capita, il Papa l'ha indetto 25-50 anni prima, ma perché è un anno straordinario di grazia. Il Papa non vuole che si celebri il Giubileo attraverso delle celebrazioni solenne, ma che si attenzionano i poveri, i piccoli, i umili.